No, maledizione. Senti, mi serve quella somma prima di mezzogiorno. Sì, è un problema. D'accordo, chiamo Wes. Oh, merda! Si è rotta la mandibola. Mi dispiace, signore. Non l'avevo vista. Tutto a posto? Beh, cavolo. Si sente bene? Signore. Oh, merda! La mia povera bicicletta! Senta, mi dispiace, gliela ripago. Oh, maledizione. Oh, maledizione, guarda il mio vestito. Oh, merda! Oh, cazzo! Ho un incontro d'affari alle 11. È proprio un disastro. Guardi il mio telefono. Io con questo, io con questo ci capo, cazzo! Porca puttana! Oh, si dice che nulla accada senza una ragione e avevo decisamente bisogno di una bicicletta nuova. Io invece non avrei mai avuto bisogno di questo dannato casino. Non oggi fra tutti gli stramaledetti giorni! Porca puttana! Vorrei che tutto questo non fosse accaduto! Vorrei che tutto questo non fosse accaduto! E questo è il suo desiderio? Vorrebbe che tutto questo non fosse mai accaduto? Proprio così! Cazzo! Esaudito, signor Baker. Come fa a sapere il mio nome? Ho bisogno di quella somma prima di mezzogiorno. Sì, è un problema. Senti, chiama Wes. Fagli mandare via fax il frontespizio all'ufficio principale. Parla di... Cosa? Parla più forte, ok? Non ti... Non riesco a sentirlo! Certe persone non sanno esprimere un desiderio. Eh?